ecco i giocatori chi formazione sia nella Juve che della Roma Tati Dalenti, Serresa Prosperera uno dei più forti, tenta il gol non ci riesce Marco Mengou e noi ci riesce invece pur a zero per la Roma gol del tifosissimo della Roma Lesgoski, ecco qua il campione del sorriso non colto il Kindi infatti non riesce a segnare Tatino la passa per Ortelli Luca Ortelli Luca Ronaldo ok, go on